Io ho fatto ciò che ho potuto, cioè testimoniare la mia fede e soprattutto l'amore di Cristo verso tutti. E questo io penso soltanto può cambiare il cuore perché quando voi mi avete domandato sulla mia croce io posso aggiungere anche questa catena. Questa catena è fatta di filo elettrico nella prisione che i casserieri hanno tagliato per me e mi hanno prestito due piccole denali per tagliare e fare insieme in quattro ore questa catena. La testimonianza più grande è l'amore, il perdono, la riconciliazione. Dimenticare il passato e pensare all'avvenire per poter insieme edificare il mio paese, poter insieme costruire un mondo più bello. Come ho detto l'altro giorno alle ore, l'avvenire è più bello che tutti i passati.